Quindi no, mi piacerebbe conoscerlo di più, però è vero che se le basi sono queste, se scatti a ogni cosa... Io scatto a ogni cosa? No, scatti nel senso che io sono una persona, amo i rapporti interpersonali, quindi non mi faccio problemi uomo-donna, cioè... Non può essere che riballi con Riccardo, ti stai dicendo? Ma non esiste proprio, perché non c'è il senso, perché ti c'è da dirti, scusa, ma che cosa ancora che non hai capito? Ma l'hai visto dire, non li fa capire. No, 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 c'è un'altra cosa, mi fai parlare? Perché prima non mi hai invitato? Io sono stata seduta e mi ha invitato... Io ti invito perché... Nunzio, che è carinissimo, mi ha invitato perché mi ha detto, ma è possibile che nessuno ti invita? Dico, beh, così, quindi ho apprezzato tanto, grazie. E perché non mi ha invitato? Infatti sono felice che un uomo ti inviti a ballare, ma io non ti ho invitato perché non ho più voglia di correre dietro a nessuno. Stamattina perché non hai chiamato? Allora, quindi non mi dire che vuoi continuare se non hai voglia di... Ma c'è una strada centrale e due persone che vengono da due lati diversi, o per correre la stessa strada o no. Stamattina perché non hai chiamato? Perché tu hai chiamato? E allora stiamo a fare, a 40 anni, tu hai chiamato, io ho chiamato. Ma tu glielo hai appena chiesto, ma tu glielo hai appena chiesto, non glielo hai chiamato. Esatto, esatto. Aspetta, ti sei perso un aneddoto, perché ieri sera, nonostante le discussioni avute, e lo scambio di idea, io il passo indietro lo faccio, no? No, al fine. Mi sono scocciato di fare sempre il passo indietro. No, no. Non lo voglio fare più. No, non lo voglio fare sempre il passo indietro. No, non lo voglio fare sempre il passo indietro. Non lo voglio fare sempre il passo indietro. Grazie.